ciao io sono camilla fabbri ho 19 anni e nella mia vita prima di tutto sono una studentessa e poi come hobby e come lavoretto per guadagnare qualcosa lavoro nella moda faccio una modella determinata vulcanica e solare scontadissimo perché io vorrei fare tre mila cose ne faccio tre mila però ne vorrei fare sempre di più e poi sono sempre superattiva e mi piace mai stare sempre immobile ferma sono una pigra ecco che devo sempre aspirare ad avere una estirpabile propensione alla felicità devo essere sempre felice carico sempre foto su instagram su anche su facebook twitter qualunque social network questo periodo è di moda è più gettonato ma il mio assoluto preferito è instagram e mi piacerebbe lavorare in televisione ho pensato presentatrice opinionista mi piacerebbe forse anche attrice però maggiormente mi piacerebbe lavorare per i programmi televisivi un po più piccoli rispetto al cinema ma ne carico uno o due massimo non voglio proprio essere invadente non nego che scatto più foto prima di scegliere il selfie migliore però sono naturale come come sono molto spontanea non uso molto hashtag però anzi non uso per niente però metterei sicuramente singita aperitivo e tramonto sunset blu perché ho gli occhi blu blu come il mare direi blu come il cielo anche il mio cane si chiama marlin quindi sicuramente darò marlin cucciolo fedele e che mi accompagna tutti i giorni questa scriverei bon dia in portoghese vuol dire buongiorno e scriverei amore perché l'amore è la cosa più bella della nostra vita scriverei che il buongiorno si vede dal mattino no qua come hashtag metterei aperitivo mojito singita e sempre tramonto